Cittadini del mondo Le opere digitali hanno la forma e la dinamica delle idee e come le idee non hanno più proprietari, ma solo pensatori e ripensatori L'essere umano genera personaggi, storie ed opere originali da gettare in pasto alla moltitudine, prendendole collettive e mutanti Nasce così un nuovo teatro che si nutre di rappresentazioni individuali e collettive che nascono sulla rete e chiedono di sfociare nelle piazze Insorge una nuova letteratura che vede i suoi personaggi raccontarsi da soli attraverso una scrittura atomica, dialogante e frammentaria Tutto questo avviene senza tregua né traguardi, con un ritmo esponenziale Il tempo creativo ci rende artetici di attraversamenti, istruzioni, rimodellamento di idee Libero utilizzo e replica delle immagini e dei marchi Segui i sette passi Lunga vita al tempo creativo